Se volete acquistare crediti FIFA a basso prezzo andate su FIFAUltimateTeamCoins.com E con il codice GRAN avrete il 5% di sconto Vabbè io l'intro posso anche fare così Bentornati qui sul nostro canale e oggi giochiamo con il culo di Daryl Niente questa qua può essere la partita per la vittoria Bella questa qua non ho visto che c'è C'è il passaggio del titolo Una berkley's easy Che bella l'intro comunque Vero Vai che abbiamo coperto Vai bravo Neuer Neuer con un po' di indecisione ce la fa Guarda 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 Porco 2 Buttati Ma che cazzo stai a fare in piedi Non segue Ha munito 5 partiti di seguito Cioè c'è proprio prestato Capito ma perché non si butta il portiere Capisca che fa una cazzata E si butta piuttosto che sta là fermo a girare Ma porco 2 ma fallo Eeeh Il tempo va e passano le ore Ma che sta cosa capito Mamma mia ben a direi entra Ne è vero Vabbè ho visto Spergolato La pista in direita No Ho visto Pesso gioco solo su Star Si con questo Si può fare Si può fare Si può fare Si sta tranquillo Che è sto bug No Mi ha dato i rigori Dabbè col col 2 Da Ma che ha dato i rigori Non ho toccato No 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 non è no ieri credibile pranzo di un'idea sulle merda scuola ecco acqua curva o mamma è arrivato per niente ma che tolto vai e va come ho fatto ma perchè come quando non servono queste cose dai questo era un gol sempre fai sempre gol quando fai così sempre guarda un po' mi younger sta anche a panico perchè hai detto da la? perchè pensavo che usciva stavo usciva e tornavo indietro è puro fai il camadosca vai fallo ti prego dai 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 non ciò che cosa che tu hai mai ma lì chan stai per me è capitato questo passaggio che pare che tira ah no devo tagliare io ma vabbè bono 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 così mamma mia mamma mia porca puttana porca ah ah almeno carcante abbiamo un pareggio da dove c'è eh preciso capito no come raffa vabbè meglio così perchè sennò segnavo no ho preso guarda quanto l'odio non mi seleziona quelli vicino a lui ma perchè no ci hai sbagliato due volte a controllare fuori gioco fuori gioco sto che cazzo sta partita proprio tanto che che no lui va bene comunque va bene comunque va bene comunque no ho fatto una cazzata perchè parca troia ma perchè ma stavo troppo lontano ma tu sei a porta libera ma che a porta libera ma anche era uscito quello stava a metà ma subito coperto prima di te tira di gnavi eh ma che tira di prima si ma stavo facendo stai è uguale la porta è vota ma non stai non stavo a porta vota ta hai fatto una cazzata porca puttana però si segnalosi come io ho fatto un cazzo questo non lo passa non lo passa non lo passa ma che cazzo sta succedi famo il pareggio nel pugno caldo scavo scherzo che palle o coglioni se sei che ci ha fatto più sta solo immobili ma non c'è stato un po' di più vaffanculo oddio troppo troppo non ti hai lanciato che palle vado vado pareggialla per il cazzo di passaggio vabbè comunque c'è stato c'è stato cinque vittorie consecutive vampareggio insomma e niente noi ci becchiamo domani domani ci stanno cazzi se vince e si passa in divisione tre quindi bella ciao